Eccoci qua, questo nuovo video, oggi è il primo giugno, siamo qua a Cervigna, siamo andati a fare scioccolini Siamo col Daniele, che non mette l'arva, la Francesca e Luca Lascia il Cervino appena tutto bello imbiancato perché appena ha nevicato Questi qua sono le grandi muraglie Di là invece c'è la scetola e dame, tutto il canale che... E di là invece c'è il... il rosetta Mentre poi di là abbiamo il Brighton Siamo andati al Brighton occidentale Ovviamente prendendo la funivia perché sarebbe un po' inutile salire le piste Che tanto sono uno, marce perché fa caldo E due, non sarebbe neanche una gran salita perché in mezzo agli impianti così non è il massimo Però l'abbiamo già fatta Eccoci qua arrivati su Adesso la salita parte da qua E adesso parte insomma la salita che deve essere comunque abbastanza breve Sale su di là e poi là inseris il pezzo bello Ecco la del Brighton occidentale Poi là c'è quello centrale e là in fondo c'è quello orientale Troppo difficile quello orientale Abbiamo il Castore Dietro là invece c'è l'Iskam occidentale L'Iskam orientale Poi si vedrà anche il Monte Rosa da su E abbiamo la Svizzera Adesso noi dobbiamo proseguire tutto qua Da un pezzo un pochettino più lungo Ecco qua la parte di mezza costa che dobbiamo fare Da c'è il ghiaccio di verra Col piano Da si scende giù al rifugio qui è da gas A Chamfouc Da invece c'è Monte Rosa Bello Fa freddissimo Sono meno dieci Però c'è il sole si sta bene Il traverso Si porta alla cresta La porta di cresta Si ha i piedi sempre La c'è il traverso giù E di l'ambici c'è il Cervino E il Fruggen sotto La c'è il rifugio qui è il Cervino Tutto il piano di verra La abbiamo piccolo Cervino Cervino Fruggen Vissorn Gankomben Zinar Rotorn Vissorn che bello Sotto qua c'è Zermatt Ecco qua la discesa Dalla cima Dalla cima qua Ci andiamo giù verso il piano di verra Sotto qua c'è il piccolo Cervino con lo Skiest Non c'è neanche ancora Non c'è neanche ancora Qua Queste battute Neve e marco Stiamo in brutto tempo Adesso Andiamo giù verso La Maisonne Grazie a tutti. Anche fuori pista la neve, un po' marciotta, però sciabile. Abbiamo il furgen, qua abbiamo il furgen, la invece abbiamo l'arrivo degli impianti, del teodoro, la testa grigia e l'aditro di Brighton. Eccoci qua giù, qua da Cervigna, qua tu gli alici perché non sapevi proprio poter sciare. Eccoci qua, siamo tornati giù, giù dopo il bar, sono stati 750 metri di livello in salita e il 2002 in discesa. Poi siamo usciti da Brighton fino a Cervigna, uscire ai piedi, dentro l'ultimo pezzo, a camminare. Difficoltà, che difficoltà è? F perché c'è 20 ghiacciai, quindi sarebbe BSA, però è un BSA facile. Alla fine è solo perché c'è il piatto Rosali, il ghiacciai a ventina. Ci vediamo alla prossima tirata. E niente, saluto da Daniele, Luca e Francesca. Ciao.